Con la pioggia incessante degli ultimi giorni le strade rimangono sorvegliate speciali. E' il caso soprattutto dell'Oltrepò dove nelle scorse settimane si sono registrati danni ingenti a causa del dissesto mentre si attendono con ansia gli interventi di recupero nei punti interessati dalle frane. E' il caso di Bagnaria, Colli Verdi, Fortunago e Montesegale. Proprio qui il comune è in attesa che la provincia metta in sicurezza la frana che ha inghiottito mezza carreggiata a due passi dal municipio e dal castello. Intanto però i lavori avviati dalla comune sulle strade di competenza proseguono con diversi cantieri di asfaltatura e contenimento del dissesto come nel caso della piccola frazione di Languzzano dove sono in corso lavori per un investimento di circa 100.000 euro. Qui siamo in frazione Languzzano e il comune ha avviato due interventi uno che riguarda il risanamento della strada e anche quindi un intervento di risanamento idrogeologico di asfaltatura e di sistemazione delle sponde. Questi con un intervento di circa 100.000 euro con risorse che arrivano dalla legge 9 di Regione Lombardia. A questo si aggiungerà un altro intervento per circa 60.000 euro con fondi del Ministero che permetteranno di riqualificare e mettere in sicurezza tutta la viabilità della frazione Languzzano. Purtroppo il territorio nostro, il territorio della comunità montana è un territorio che è molto prezioso e bello però al tempo stesso è molto fragile. Quindi il dissesto è una delle cause principali anche di problematiche che abbiamo anche sulle vie di comunicazione, quindi sulle strade che siano esse comunali che provinciali. Ovviamente il lavoro deve essere continuo e meticoloso. Purtroppo fortunatamente in questi ultimi anni sia con fondi di Regione Lombardia che con fondi statali siamo riusciti a fare diversi interventi sul dissesto. Ne abbiamo fatto uno grosso a Sanguignano in frazione Sanguignano di circa 500.000 euro e uno anche grosso qui sul risanamento del cimitero di 350.000 euro circa.